ok ok questa è una prova ovviamente però potrebbe essere anche un facciamo uno di questi che ciò l'alienino e ora se facciamo questo gioco che è famoso diciamo dei miei giochetti questo è del cellulare vediamo un po dove mi butta che non ho fatto altre nuove diciamo piste vediamo se una cosa c'è il cavo che non per cazzo vai 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 il culo rotto io chiamo culo rotto ovviamente solo io posso chiamarmi questo c'è un sacco di gente qui a giocare devo dire la verità c'è un sacco di gente qua qui a questo gioco c'è sempre un sacco di gente alcuni sono bambini e ragazzi io sono vecchio e mi metto già a queste cose ma adesso sono intronato però è carino perché mi piace questo gioco qui talmente colorato a me mi piace per quello c'è anche superman no no non è per quello perché mi piace i colori piace tutto bello colorato insomma è bella la colorata cazzo no sì che c***o che c***o ecco vediamo abbassiamo un po no abbassiamo un po ecco così è un po diverso da quell'altro della nintendo si chiama lo della nintendo con l'altro pitotino lì come si chiama far guys far guys è più o meno uguale un po diverso ma insomma c'è il pitotino però qui mi piace perché qui si può cambiare i pitotini ora stavo guardando la serie tv del del porco che mangia come si chiama danger food 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 come gli americani mangiano mangiano patatini questo non mi ha fatto questo per esempio eh prima volta che lo vedo uh allora così eh no che c***o c'è gli schizzi malefici allora schizzo maleva di qua e che c***o hai per c***o hai più per c***o vabbè comunque la gente che va a vivere in altri mondi io non lo so in altri paio penso di fare ma sì magari è anche meglio sì però il fratello sta nei canari infatti no oddio no no ecco che bello guarda che bello castello anche bello lo tanto e cazzo era quasi vino no ma guarda che faccina questo perdono ho perso troppo tempo qui si qui qui si fa solo il tempo mi sembra perché se metti tanto tempo per non ce l'ho fatta otto persone ragazzi è terminato io sono morto esploso netflix tv con un fungo un cazzo in culo un saluto allora è e quindi niente vi saluto al prossimo video vediamo se ho fatto quanti punti nulla ciò che si riscate cioè di verità discorso che bello che ho fatto e assi missioni pensava forse davvero ho preso anche 200 eccolo qua perfetto poi posso comunque vedere il nuovo cosa questo nuovo a sugli eventi ma gli eventi si sa ben io quella la e su questi eventi anche perché ok scorreggio gli eventi quindi niente ragazzi vi saluto al prossimo video spero che sia risenta bene se si sente pazienza ciao bua ioli